Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alla vaniglia con pere e mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, zucchero, uova, estratto di vaniglia, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, pasta di limoni o la scorza grattugiata di un limone, lievito per dolci vanigliato, mele e pere da cubetti e sale. Diamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi con il cestello al posto del misurino per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4. aggiungere lo yogurt l'olio, la farina, la fecola, la pasta di limone, l'estratto di vaniglia, il sale e il lievito. Ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità a 4. Aggiungere le mele, le pere ed amalgamare con la spatola. Versare il composto in una tortiera da 26 cm in diametro ben imburrata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Torta alla vaniglia con pere e mele. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! 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 Ciao!